parte la partita l'incontro fischia il direttore di gara quarta e quarta ed ultima partita della giornata finale terzo e quarto posto della categoria 070 08 via tagliacorso vento che c'è l'estero sicuramente ha i microfoni ma anche nelle gare in questo momento non gira tanto il vino a corso ma anche a corso tantissima ancora margarone c'è De Blasio la lascia al numero 10 gol della Fiumicino l'Aurentum finale che aggiungerà la prima ecclasia quindi la vincitrice di questi finali provinciali il torneo è iniziato ieri pomeriggio con il girocino di qualificazione che poi dava più l'aver detto sulle semifinali quindi prima contro quarta intanto il gol di Vitiello prima contro quarta e seconda contro terza intanto due a zero ripartire il tiro e il gol di Rosari gol di Rosari avanti per il compagno c'è Viglia alla sinistra che corre ma Rosari viene servito poi il gol di Rosari no c'è la carica su Condemi Lorenzo lascia lì Nicolò dai Lollo Megna se ne va proprio con la sola perde però la spera vuoi ripartire il tiro e il gol 4 a 0 non vorrei fare non c'era mancini nulla da fare non c'era forse più accesa da l'altra parte, grippata si sono sentiti urla e festeggiamenti Anzi cosa non so, la metto qua e la scacovate tanto, il roll del numero 13, Mancini, la guarderò a Pulantino, la mette in avanti, poi Rosari non riesce a prenderla, a portarla via la maglietta. Questo è spettacolo. Tu non ne hai fatto uno, ne te ne ghiacco. Cristian, devi fare la silenzia. Cristian, andiamo a fare la silenzia. Ricordiamo che sono squadre amiche, anzi è la stessa squadra, quindi adesso c'è un po' di sparring partner, si gioca solo per finire questa giornata di torneo. Rosari cerca di andarsene, c'è sicuramente agonismo, ma finisce qui il primo tempo, Fussal bianca 4, Fussal rossa 2. Ma in campo quindi tra Fussal bianca e rossa, Fumicino rossa con la maglia grigia, attaccata sinistra verso destra, invece la bianca che attacca da destra verso sinistra. Mancini cerca di andarsene via da due maglie bianche. Mezzomenia e c'è adesso il gol di Lorusso. Quindi 4 a 3. Cerca di andare Rosari, gol di Rosari. 5 a 3, quindi sistema tutto, mette di nuovo due lunghezze davanti il numero 5. Maglietta c'è, Megna dall'altra parte. Palla fuori. Con Demi cerca di andarsene via sulla destra, lotta contro Megna. Palla fuori. Mancini se ne va sulla destra, c'è il continuo davanti a lui, però il tiro di Mancini, ma che gol del numero 13. 5 a. Il tiro di Contino, gol del 5 pari. Di Terrasi. Di Terrasi. Mancini e gol. Bravo! Ancora da! Mancini adesso si è spostato dall'altra parte per Rosari. Non riesce a tirare il numero 5. Con Demi prova il tiro, c'è Mancini, il tiro di Mancini. 7 a 5, quindi. Segnato tre gol con la rossa e uno con la bianca. Il tiro di Peppe Seghi. Palla fuori, cerca di andare da Mancini. Gripia. Lorusso fa fallo. Cioè, scusate, non fa fallo, conquista una rimessa laterale. La metto in mezzo! Per il numero 6, il continuo. Siamo alla fine, 15esimo minuto su 18. Margarone si smarca tutti, soprattutto il proprio mister. C'è il tiro di Iba, si fa la che è andata fuori. Ti dà gli sgoccioli, 17esimo minuto. Manca veramente poco, 8 a 6. Magna, Megna, tira. Autogoll di Margarone, che ne ha fatti già tanti. Tillo Laurentum. Vince 1 a 0 il Laurentum. Questo qua, si finisce di giocare. 18 e 50 sul cronometro. 8 a 6 tra più vicino. Fuzza la 1926. Bianca. E rossa, 8 a 7. Finisce qui.